E adesso passiamo ad Andrea, vuol sì così, da lì racconta Dante, è la mostra evento allestita nelle sale espositive del Museo Diocesano. È stata inaugurata e presentata ieri e resterà aperta fino al 27 novembre. I dettagli nel servizio. Urban Center e Il Sostizio, due associazioni andriesi, sostengono vuol sì così, da lì racconta Dante. Qual è il significato di questa mostra? Allora, il significato di questa mostra è che tutti noi possiamo partecipare a quella che è la vita culturale di questa città. Io non nasco come persona atta agli eventi culturali, ma lo sono diventato proprio perché ognuno può mettere del suo in quella che è la vita cittadina. L'impatto sulla cultura, della cultura, sull'intera comunità cittadina andriese? Beh, innanzitutto accettiamo con piacere il fatto che ci sia finalmente un ritorno alla quasi normalità. La nostra città, Andrea, tutto il tessuto sociale sentiva l'esigenza e l'abbiamo avuta come riprova l'affluenza e l'immediata risposta del pubblico rispetto alla nostra inaugurazione. L'impatto è quello proprio intanto di celebrare il Dante nell'anno appunto riferito a lui attraverso uno sguardo non assolutamente retorico che è quello delle litografie che da lì ha rappresentato proprio il riferimento a ogni singolo canto della Divina Commedia. E in più avere l'occasione di valorizzare dei talenti straordinari, persone che si sono, i curatori della mostra, Giuseppe Primitivo, che si sono fatti conoscere ad Andrea nell'ultimo festival a Castel dei Mondi e che noi siamo riusciti ad intercettare perché anche uno dei due curatori è di Andriesi assolutamente e hanno voluto in un senso assolutamente onirico, immaginifico creare una cosa che sicuramente piacerà ma sconvolgerà a tutti. Qual è il fil rouge del vostro percorso espositivo? Il fil rouge è un cantiere, il cantiere della memoria storica, culturale, letteraria, artistica, è un cantiere di riscoperta, di ricostruzione attraverso quella che è il DNA di una società, di una cultura, di un popolo e cerchiamo di ricostruire attraverso questo cantiere la memoria che è stata storica ma che è ancora viva. Come è nata l'idea di questa mostra? C'è stata proposta dall'associazione Urban Center e abbiamo trovato insieme a loro un entusiasmo nel voler mettere in scena oltre a quella che è la superficie del testo visivo e letterario un teatro del piacere e dell'orrore che possa accompagnare lo spettatore trasformandolo in attore.